siamo qui con due principesse disney quindi questo già è un onore e vi vorrei dire cosa avete pensato quando avete letto quella scena lì con tutte le principesse insieme cioè noi da spettatori siamo emozionati tanto ma penso anche voi che siete cresciute con quei classici e che ora li doppiate anche sì sì è stato esilarante perché non neanche io me l'aspettavo poi all'interno di un film io ho già visto il primo ralph spaccatutto quindi sapevo più o meno insomma i toni di ralph e il suo mondo detto ma come le inseriscono le principesse e poi quando ho visto il modo in cui le hanno inserito pensato che fosse assolutamente geniale è stato bello vederle tutte quante insieme da biancaneve a vaiana di oceani insomma è stato strano e poi vederle far squadra stare tutte insieme anche un po annoiate in camerino perché loro sono lì perché stanno rispondendo al quiz quale principessa disney sei no che sono i bimbi che stanno giocando quindi stanno lì a far squadra sono amiche anche un po annoiate si prendono tanto in giro su quelle che sono le loro caratteristiche proprio per antonomasia tutte le caratteristiche che le principesse disney devono avere per essere principesse quindi da una vita un po sfortunata una famiglia un po così genitori che mancano un amore da inseguire esatto devono cantare quando sono troppo emozionate e lo fanno prendendosi tanto in giro ed è divertente ma la parte più divertente secondo me è stata proprio l'arrivo di questa vanello per una ragazza nuova nel gruppo delle principesse lei dice io sono una principessa e poi scopriamo che la principessa della comodità ecco nessuno avrebbe mai pensato nella vita di vedere la perfezione degli abiti delle principesse disney trasformarsi in pigiama un po la vendetta di quelle ragazze che stanno sul divano e si guardano netflix tutte si potranno riconoscere in queste principesse si riconosceranno in questo aspetto siamo tutte così quindi anche voi preferite la versione comodità o quella con gli abiti tutti sbrilluccicanti ogni tanto l'abito sbrilluccicante però poi quando torni a casa il momento in cui ti sfili le scarpe ti togli il bustino e via il trucco dato che siete due mamme tutte due principesse mamme ecco come vivete il rapporto con la disney anche in relazione ai vostri figli cioè sappiamo che hai anche due bambine quindi principesse come vedranno questa cosa i principesse tutte insieme ma per me è il rapporto è viscerale veramente rapporto con la disney ho vissuto tutte le fasce e e avendo due maschi e due femmine anche tutti i film quindi tutti i film che magari sono un po più diretti a un pubblico maschile che poi invece i film disney sono assolutamente trasversali e quelli quando è nata maria e ho iniziato a rivedere tutte le principesse e quindi per me è proprio uno zucchero filato tutto questo momento il mio diego ha due anni non guarda ancora la tv ma guarda i classici di disney e li segue dal primo minuto all'ultimo e si appassiona il piange anche così sono arrivano troppo arrivano proprio dirette al cuore dei più piccoli e anche dei grandi perché anche il papà ci facciamo dei pianti ma una curiosità eravate tutte insieme in sala di doppiaggio ognuno ha doppiato il doppiaggio una delle cose che non mi piace il doppiaggio è che è un lavoro individuale nel senso che sul set invece si fa squadra si sta sempre insieme al doppiaggio ognuno va dopo i propri turni e poi alla fine sta mettere insieme tutti i pezzi del puzzle l'ultima domanda è per serena non me ne voglia nicoletta ma tutti aspettiamo specie a casa mia c'ho mia sorella che adora troppo frozen quindi qui bisogna prepararci bisogna lavorando ci stiamo lavorando prossimamente su questi schermi al cinema ovviamente grazie grazie ciao grazie